IOKIS Pro è un'applicazione che consente agli installatori professionisti di realizzare un impianto elettrico con moduli radio IOKIS in modo semplice e veloce. Sono sufficienti un tablet e la chiave USB IOKIS per creare, salvare, controllare e ampliare in fasi successive gli impianti elettrici. Una soluzione efficace sia in caso di ristrutturazione sia di nuove costruzioni, dalla villa monofamiliare al condominio multiutente. Disegna la planimetria dell'appartamento o del cantiere in cui devi realizzare l'impianto con i moduli IOKIS. La mappa si può disegnare in modo semplice anche solo con un dito. È importante prestare attenzione alla fase di creazione della planimetria suddivisa in stanze, indicando in modo chiaro i nomi associati ai moduli di controllo e alla loro disposizione negli spazi, perché le informazioni saranno poi utilizzate dall'utente nella gestione dell'impianto attraverso l'app INO. Una volta che avrai completato la planimetria, posiziona i moduli IOKIS sulla stessa. Entra nella sezione moduli, seleziona il prodotto e trascinalo sulla planimetria nella stanza individuata. La preparazione dell'impianto può essere fatta anche nella propria sede, prima di arrivare sul cantiere, guadagnando tempo. L'app IOKIS PRO rileva in modo automatico i moduli presenti nell'impianto. Con pochi tap puoi quindi effettuare la ricerca dei moduli già installati nell'appartamento o cantiere. Verifica il cablaggio e l'alimentazione. Quando tutti i moduli sono stati acquisiti correttamente, puoi concludere la ricerca e posizionare i moduli sulla planimetria. Si possono ora configurare relais, dimmer e moduli tapparella, accedendo al menu dedicato e selezionando le voci nell'elenco, come per esempio impostare la temporizzazione, abilitare o disabilitare alcune funzionalità e personalizzare l'intensità luminosa. E ora è il momento di far comunicare i moduli tra di loro creando il bus radio. L'applicazione IOKIS PRO tramite IOKI gestisce automaticamente la fase di creazione e ottimizzazione del bus smart radio di IOKIS. Il risultato è chiaramente visibile sul tablet alla fine delle attività di configurazione. Passo 1. Tracciare i collegamenti di partenza del bus smart radio collegando tra loro le stanze dotate di almeno un modulo IOKIS. Passo 2. Lanciare quindi la procedura automatica di creazione del bus radio. Una volta creato il bus radio, tutti i moduli della planimetria appariranno collegati tra di loro tramite una linea blu di connessione. I collegamenti possono essere modificati successivamente in modalità manuale. A questo punto puoi raggiungere e configurare i punti di comando selezionandoli nell'area dedicata tra trasmettitori da incasso, telecomandi e comandi a muro. Scelto il punto di comando da programmare si potrà attribuire ai suoi pulsanti una funzione di centralizzazione o di singolo comando, per esempio accendi o spegni. Il trasmettitore funziona subito dopo la programmazione. Un comando centralizzato consente di inviare un unico comando sul bus smart radio e quindi di pilotare più moduli contemporaneamente. I comandi centralizzati sono la soluzione ideale per attivare ordini di tipo accensione, spegnimento, apertura, chiusura generali sull'intero impianto o su zone predefinite. La configurazione dell'impianto si conclude con la definizione delle situazioni o scenari. È ora possibile trasferire i dati di progetto su YOKIS Hub o su YOKIS Cloud per consentire al cliente di gestire il proprio impianto. Con un semplice tap sul tablet tutte le configurazioni dei moduli, il bus radio, la programmazione dei punti di comando e gli scenari vengono salvati sull'app o sul cloud YOKIS. Dopo aver scaricato l'app INO l'utente può gestire i propri ambienti o attivare uno scenario da qualsiasi punto di comando o dal tablet. È possibile per esempio definire come evento il sorgere del sole, eventualmente anticiparlo o ritardarlo fino a 45 minuti. Oppure si può scegliere il tramonto del sole per lanciare lo scenario tutte le sere. YOKIS Pro è anche disponibile in un pratico kit che include un tablet Android e la chiave USB YOKIS. YOKIS Pro, l'applicazione che trasforma e semplifica il vostro modo di lavorare. Grazie per la visione.